questo progetto nasce nel 2019 dopo la pandemia durante e volevo fare una volevo fare un sound nuovo alternativo mi sarebbe piaciuto fare una cosa tipo one man band magari con Ableton live e qualche altro strumento elettronico di accompagnamento ma mi sono reso conto che i costi erano esorbitanti e i costi erano esorbitanti non solo per il software e tutti gli optional o gli aggeggi che devi comprare dopo era esorbitante anche in termini di tempo perché sei obbligato a imparare a usare quel software che non è facile e continuavo a chiedermi ma non c'è un'alternativa non c'è un'alternativa e poi c'era questo discorso anche che si sentiva in continuazione questa situazione sai un po' dappertutto ah non cambia mai niente non cambia niente non si può cambiare questo sistema è così perché tutti siamo al corrente del fatto che questo sistema effettivamente ha qualche problema e niente e quindi ho iniziato a pensare ho detto vabbè ma è mai possibile che non ci sia un'alternativa cioè è mai possibile che noi dobbiamo per forza comprare tutte queste cose consumare tutta questa energia e mi son buttato sui one board computer e ho cercato di utilizzare dei software open source tra i quali ARMbian che è praticamente un sistema operativo gratuito alla quale poi ho aggiunto altri software come Super Looper Qjack CTL e decine di altri software gratuiti che mi hanno permesso poi alla fine di creare questo piccolo concertino che dura più o meno 5 minuti tutto di musica elettronica cantata in inglese e beh la soddisfazione la soddisfazione è stata grande allora il costo dell'operazione è stato praticamente irrisorio perché tra computer installazione e pratica cioè per imparare come usare Super Looper e cose del genere ci ho messo più o meno un mese e in totale in totale ho speso 70 euro quindi poi non so voi se voi pensate che vada bene continuare a rifocillare questo sistema che non funziona con i soldi fate pure altrimenti le alternative ci sono ed eccole qua ecco qui qua allora faccio partire subito la base questa qua e poi entro con la batteria ed eccoci qua here we are I always I always wanted to do a song like that ho sempre voluto fare una canzone così no però non me n'è mai capitata l'occasione adesso invece here we are here we go we start with the song hey oh baby I'm thinking about your body oh baby I'm thinking about your face oh baby I'm thinking about your body 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 oh baby oh baby I'm thinking about your body 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 oh baby Thinking about your face Oh baby I'm 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 Thinking about your body Oh baby I'm Thinking about your body Thinking about your face Oh baby I'm Thinking about your face Shake it down And I say Ciao Grazie a tutti 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 Grazie a tutti